siamo qua alla finalissima 3 ottobre di premio nilla pizzi 2020 terzo anno davanti a questo bellissimo quadro questa tigre abbiamo il patron colui che ha ideato colui che ha pensato a questo importantissimo premio nilla pizzi ma c'è un motivo perché lui non l'ha fatto così a caso ma forse è stato ispirato da nilla pizzi perché lui ha avuto la fortuna di conoscerla veramente è con noi perché qui pochissimi non l'avessero riconosciuto il grande lele mora grazie è vero è vero quella tigre che c'è in me non era mina ma era nilla pizzi devo dire che per me è stata come una grande mamma e una donna che mi ha dato la possibilità di girare il mondo di conoscere tanti capi di stato che dove c'era lei c'erano i numeri 1 c'erano i più grandi lei era la vera regina la portata veramente in giro per il mondo e devo dire che oggi ricordarla e rivedere alcune immagini di tempo fa mi commuovo ma perché perché nilla era veramente unica e anche rara grazie a lei diciamo ho mandato avanti la mia carriera perché fino a quattro anni fa che è venuta a mancare io gli sono stato vicino e gli ho voluto bene fino all'ultimo momento purtroppo la vita è una ruota e cosa vuoi fare tutto passa e anche nilla è passata in cielo ma dalla su ci guarda assolutamente sì e poi carolele noi seguiamo dalla prima edizione del trofeo nilla pizzi devo dire che è stata un'evoluzione per arrivare a veramente vorrei dire una piccola sanremo è vero nella mia vita nel mio lavoro ho raggiunto tanti obiettivi ma questo è un obiettivo bello bello perché mi dà gioia quando una un contesto come questo trofeo della regina ti dà delle grandi gioie vuol dire che e ti fa venire la pelle d'occa perché quando vedi alcune e rivivi alcuni momenti e ti si accappona la pelle vuol dire che passa non passa solo per me ma passa anche le persone che lo guardano e allora dal cuore di lele mora danilla pizzi vi diamo appuntamento all'anno prossimo che sarà ancora più spettacolare perché ogni anno come diceva lele evolve e cresce in bellezza in ospiti anche se devo dire che quest'anno abbiamo toccato veramente livelli molto ma molto alti grazie e buona serata grazie